questo potrebbe farti un po male come ti pare che stia la sua abilità nella struttura ha bisogno di essere migliorata ma per il resto direi che dovrebbe andare bene allora non era morso in un viscido se lo fosse stato la febbre sarebbe già salita e la sua temperatura sarebbe alle stelle vorrei che non ti fosse comportata così ero soffrente e non mi stavate aiutando perché ti consideravo una minaccia e lo eri e forse lo sei ancora no non lo so li abbiamo messo in quel capolone per l'interesse della sicurezza dei nostri cari poi tu scappi e convinci mia figlia a rubare qualcosa proprio a noi eh manipolatore ti darò il beneficio del dubbio ma ci sono alcune cose che devi sapere su mia figlia va bene lei non è come te potresti non capirlo inizialmente ma una volta che le stai vicina però un po' capirai se sapesse quanto è brutto il mondo come stanno veramente le cose là fuori lei potrebbe lasciarsi andare è la mia bambina è tutto ciò che mi è rimasto e ti vorrei chiedere di stare lontano da lei au non devi minacciarmi Rebecca era preoccupata che tu potessi lavorare per qualcun altro che la tua presenza qui non fosse casuale immagino che lo scopriremo ma una cosa la so di certo non sei una di cui fidarsi immaginate un dito qualsiasi state lontano dalla mia figlia stanno dalla mia figlia ehi ti ho portato qualcosa a mangiare certo che ti lascerà un accidente di segno meglio che perdano poi dirlo forte le cicatrici sono molto più belle dei moncherini sicuramente senza altro ehi guarda volevo solo dirti che mi dispiace per sia stato un cazzone là fuori sono stati quasi sopraffatto e ciò non è stato affatto divertente Nick è ormai conosciuto per avere il controllo ogni volta ogni tanto non avercela con lui sei stato inappropriato non avresti dovuto puntarmi addosso quell'arma ero ferita mi serveva aiuto voi mi trattate così non so cosa stavate cercando di fare ma non per questo è giusto avrei potuto morire a causa vostra non c'è mica tanto da prenderci in giro a noi occhio guarda ho buona intenzione solo che qualche volta non mi piace non è cattivo ragazzo ma è solo dargli una solo un'altra possibilità quindi dato che sei più o meno da sola qual è il tuo piano? non lo so sono un po' solo al momento bene se vuoi stare qui sei benvenuta rimettiti in sesto e prenditi un po' di tempo per sistemare le cose pensi che tutti gli altri saranno d'accordo? dovranno solo prenderne atto allora cosa è successo ai tuoi genitori? se non ti dispiace che te lo chieda? intendo dire presumo che ciò che è successo sia semplicemente successo ai genitori di quasi tutti sei solo così giovane non pensavamo che potevi avercela fatta da solo per così tanto tempo sono morti è stata dura anch'io ho perso la mia gente mi spiace io non avrei dovuto chiedere i miei genitori erano andati in vacanza mi sono nascita con una babysitter e non sono mai tornati sono andati a savanna per trovarli ma erano già morti ma erano i miei genitori ma erano i genitori ma erano i genitori è lui è la ragione per cui tengo i miei capelli corti cosa gli è successo l'ho ucciso è stato morso prepotesimi ed io ho dovuto ucciderlo prima che si trasformasse wow occhio ho dovuto voglio interrompere ma io sono fuori i sentinelli questo è un posto illuminato con un donato fare in mezzo ai boschi già è tempo di rientrare fatti un piccolino affinché puoi perché andremo a pescare le prime luci dell'anno oh sei ancora qui chi è il bambino scusa è una di Alvin di chi è chiudi quella fottuta bocca probabilmente dovresti pensare al fatto di essere più carina con me oh qui puoi fare un po' più il cattivo mi sembra è solo il mio consiglio ma sapevo che saresti diventata un fottuto problema per te forse hai ottenuto ciò per cui sei venuta qui ora come te la passi ho sentito che ho avuto una tirata d'orecchia di Rebecca ieri sera è cattiva non mi piace non mi piace c'è una legge un po' troppo dura quanto sono lontano queste nasse non è molto differente una traduzione qua nessuno ti ha insegnato come sparare intendo dire insegnato come si deve sì ma non un fucile e ha senso meno rinculo questo coso probabilmente ti sbatterebbe col culetto a terra Nick aveva circa la tua età la prima volta che l'ho portato a caccia ci siamo imbattuti in questo magnifico cervo adulto che se ne stava là su quel promontorio un ragazzo prende il fucile prende una mira proprio come vi avevo insegnato poi lo sento iniziare a pianucolare si volta verso i medici dice non posso farlo non posso non sparargli che cucciolo che bambino sarebbe in realtà ciao Zike perché non hai aspettato vuoi che noi ci facciamo un giro mentre tu pisci contro un albero non sai dov'è il fiume ragazzo comunque vado a quel punto prende delle mani dal fucile prima che con il grosso cervo scappi quando bang il fucile spara ragazzo quasi mi colpiva la pancia e naturalmente il cervo corse via perché stai continuando a dire perché tu le fai ha fatto quasi esplodere la faccia ieri mi pare rilevante perché mi rendi sempre la vita difficile perché tu rendi sempre la vita difficile a chiunque altro ah bene sto scusato perché sempre mi metti in imbarazzo veramente riesci a fare molto bene già da solo lascia di nuovo lo so dove è il fiume cazzo a ogni modo trovai quel cielo più tardi in quella stagione mi spari dritto nel collo portai fino a mia sorella immaginando che avremmo voluto congelare un po' della carne Nick non mi parlò per settimane qualche volta devi dare l'esempio persino se ciò fa in modo che la gente è solo un idiota c'è qualcosa di buono nel cuore di qua ragazzo solo che qualche volta la sua testa si mette di traverso Zio Pete Nick Gesù Maria Giuseppe non si arriva a Evi chi crede l'abbia fatto? non sono ancora sicuro ma non è la tua mediocre bante di delinquenti pensaci tu sei Carver che cosa fai? chi è Carver? controlla quei tizi là fai attenzione qualcuno di loro potrebbe ancora muoversi quel loro rosio lì ci porterà a sfortuna hanno sparato anche a questo mezzo la testa si controlla il resto e cerca munizioni stiamo finendo la scorta andiamo a parlarci cosa posso fare? vedete se puoi trovare qualcos'altro di che genere? mi hai già detto del genere su chi ha fatto questo cosa fa questo? è una zattera no? di fortuna ce ne sono altri laggiù non è stato certo un insul sagara che piscia più lontano cos'era allora? completamente fottuto dove stai andando? dobbiamo portare il culo fuori da qui dobbiamo controllare il resto cosa? perché? calmati e ripensaci figli e se qualcuno fosse vivi o Nick? devo spiegarti tutto no? perché potrebbero proprio essere disposti a dirci chi l'ha fatto? dovremmo farlo adesso resta qui continua a controllare questi questa è un'idea stupida lo sai Nick non piace neanche a me ma presto o tardi devo riprenderla tu di una semplice verità cosa? che sei un coglione che nessuno in questo mondo fregherà mai un accidente se qualcosa ti piaccia o no devi crescere figliolo vabbè andiamo Clem se vuoi essere utile tieni gli occhi aperti su quella linea di alberi dunque abbia fatto questo potrebbe stare più tu con un'arma ciao calci non ne dubito a un certo punto voi ragazzi dovete fidarvi di me diavolo io mi fido ma non tutti la pensano come me ancora dai loro un po' di tempo guarda mantieni solo le idee chiare ecco magari non usare il solito affare tutto fatto a pezzi spero che nessuno bene dannazione altri da quella parte tu controlla questi qua vedi se non ha niente addosso che possa dire chi erano la puzza di di guai tutto bene ma perché c'è ancora l'underscore dopo il red ancora avuto modo di sistemare ti avevo fregato il nome non ha qualche dente d'oro da cavalli questo questo qui isolato non mi piace però è vero che abbiamo un martellino è il nostro cosa il nostro cosa ti è successo cosa ti è successo tu eri nei boschi con Christa la donna con cui ero cosa ti è successo ti prego dimmelo per favore vuoi l'acqua andiamo perché voglio sentire cosa ha da dirci forse grazie grazie tre mesi ma è un po' che tu sto bene sto bene solo ho appena perso la mia posizione merda i viscidi siamo senza munizioni portate il culo via di qui aiutiamo quello che non è stramorso ma è tanto reso sto morso ma che sprechi i proiettili dobbiamo andare avresti potuto salvarlo come hai potuto abbandonarlo perché non siamo stronzi ah ottimo ah finito l'episodio 1 così è un po' cortino l'episodio rispetto agli altri un'episodio rispetto agli altri non so sembra avesse durato un'oretta appena pensavo fossi morto pensavo fossi morto sì allora la maggior parte hanno non hanno aiutato Krista poco più della maggioranza hanno ucciso il cane poco meno della maggioranza hanno accettato le scuse di Nick eh un po' meno un po' meno un po' meno del 50% hanno dato l'acqua al tizio che stava morendo e sono tra quelli che hanno aiutato in meno in minoranza Nick è vero che noi non sapevamo se quella ferita là era una ferita da morso però è durata molto è Krista ecco noi l'abbiamo aiutato solo perché volevo che mi spifferasse qualcosa ma poi diciamo che la versione che sto facendo io io l'ho chiamata opportunista non cattiva ma opportunista perché cattivo vero non riesci mai a farlo innanzitutto in questi giochi ma poi perché proprio cerchiamo di sfruttare le situazioni insomma un po' e ogni tanto siamo stati quasi più cattivi qua nella risposta che si è a Teltela i suoi difetti eh Banner Saga 3 io lo farò sto facendo la rassegna dal primo solo offline per ora li sto mettendo su su youtube e basta e farò Banner Saga 3 forse non riuscirò a farlo martedì proprio perché sono indietro spero di riuscire a farlo di farlo comunque in settimana lui in teoria esce martedì io sono a un po' più della metà del primo però comunque voglio darci dentro in questi giorni ok ci siamo rifugiati qua ebbe e? eh ma c'è ma metti qualcosa in mezzo no? Nick trova qualcosa no è meglio che lo trovi di te perché è più forte lui di te vabbè lo stai facendo Nick? ma che che scienza l'ha detto che è un coglione eh ebbe Hulk alzato una cassa da 100 kg perché per non spostarsi vuol dire che pesa 100 kg la cassa di me sei pazzo? forse perché non hai aiutato mio zio? lo avevano morso cosa? lo avevano morso lì al ruscello non ce l'avrebbe fatta magari non è vero ma non fa niente è opportuno dirgli così mi sembra più opportuno cosa facciamo ora? non mi interessa siamo bloccati qui dobbiamo almeno dare un'occhiata in giro forse possiamo trovare qualcosa che ci sia giusto e uscire da qui provaci se ci riesci diamo un fuoco è una distilleria so cos'è col cazzo che lo sai ok allora cos'è? serve a distillare l'alcol ma come ridotto adesso non serve neanche a pisciarci e si potranno entrare da quella finestra? va bene allora andrò qui a parlare da sola poi a fare il cattivo in realtà ti metti sempre in guai ho visto anche un po' coraggioso il cattivo guardiamo qua tutto questo cibo è marcio ho detto questo cibo è marcio prega niente cosa è sta roba? cos'è quella roba? fammi vedere ah però non era così imbambolato eh whisky whisky imbarato di barmellata che cazzo ne so aspettiamo credo aspettiamo ma che cavolo fa ste idiota? che problema hai? può scavare un buco può rompere il bicchiere a rompere il vetro ho dovuto uccidere mia madre sono strano quando lo dico a volce alta luke me ne parlava sempre non avrei mai voluto entrare a fare con lui ricordo quando me ne ha parlato il suo grande piano un fottuto piano dopo una cassa di birra mi disse nick stiamo perdendo tempo ed era vero dopo sei mesi eravamo senza soldi ma non mi interessava ci stavamo divertendo vorrei essere come lui è sempre stato un passo avanti a tutti è solo che non sono fatto in quel modo tutti quelli con cui sono cresciuto è accaduto a tutti e vabbè ed è quello che ci accadrà accomodi sei solo ubriaco va va cioè che senso ha? lo seguiremo altrove e qualcun altro morirà non finirà mai finché non arriverà il nostro turno non posso credere che siamo rimasti qui un giorno un giorno è passato un giorno giusto? ehi ragazzina no grazie uno sfigato sei tu e ci resti solo tu ascolta non stanno venendo per tutti e due dovresti andartene scappa tu cosa farai? resterò qui sono stanco conoscevo qualcuno come te ma andava a puttane sempre tutto mandare tutto a puttane non ho detto questo nessuno lo fa allora bene cosa me ne importa se vuole morire ne sta lì non dovresti preoccuparti non dimenticarlo se devi andare vai l'accampamento è solo mezzo milio distanza da qui non puoi mancarlo vabbè certo perché naturalmente c'è solo una direzione